Non è che Milano può essere un eventificio, non è così, adesso per dirla, non è che noi facciamo gli eventi sulla supercazzola, non è una parolaccia, credo che ci sia anche su Gengarelli se non sbaglio, gli eventi sono una cosa che su cui dietro ci stanno, ma in fattura, nella creatività, l'università, la capacità dei quartieri, così stanno per solo il Moc e così sarà per i libri, quindi intendiamoci, non è che qua c'è un'amministrazione che è in mente di lavorare su gli eventi, di chiamare, ma dietro c'è un'economia, c'è la socialità, c'è la volontà di quando pensiamo al design e la dimostrazione una volta pestina di pensare a tutti i quartieri di Milano, per cui il primo punto è questo qua, è esattamente questo, qualcuno se pensa in questa amministrazione è qua a voler dare peso, tanto peso una cosa e meno altra, fagliato, cioè noi credo dobbiamo infaticabilmente lavorare per il rafforzamento del nostro università, del collegamento tra il sistema universitario del lavoro, poi delle elementi, poi della manifattura e di tutto, e tutto funziona se si stabilisce un centro virtuoso.